segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te guardi ho letto un numero mi pare che la percentuale di co2 fatta dei gel privati sia sotto l'uno per cento preferisco non commentare questa proposta perché sarebbe troppo lungo c'è un aspetto divertente però in questa proposta che quello che mi piacerebbe vedere tutte le star hollywoodiane che sono diventati dei grandi propagandisti delle fede del riscaldamento climatico di capri eccetera eccetera a vederli su un volo di linea questo sarebbe molto divertente temo che sia più facile che abbandonano le loro convinzioni ambientaliste piuttosto che rinunciare ai loro jet privati allora valerio sermentini e le